amici di youtube oggi non esordiamo in questo video con la mia consueta challenge con la mia consueta richiesta di raggiungere un determinato numero di like oggi facciamo davvero un complimento straordinario un complimento sincero e sentito a nicolò scalfi il campione leggendario sia di caduta libera che della storia del quiz italiano in generale nicolò perde lo ha fatto nella puntata di stasera si ferma a 651 mila euro quindi vincita record vincita straordinaria a questo punto spero vivamente che mediaset possa concedere un programma nicolò un programma didattico un programma magari che possa trattare le tematiche dei giovani dopo la sua straordinaria cavalcata il ragazzo è davvero uno spot alla cultura in giovanità ovviamente speriamo che nicolò possa rimanere in pianta stabile a mediaset ovviamente troverà un compromesso anche con i suoi studi ma un personaggio così è davvero una grande risorsa e quello che spero lo ripeto ancora una volta è vedere nicolò condurre un programma didattico per e con i giovani su mediaset scrivete nei commenti se la pensate come me io vi ringrazio per l'attenzione lasciate posto commento iscrivetevi al canale quando avete questo video iscrivetevi alla pagina facebook marco liguori news